I turisti, tutti, del campionato italiano ed europeo della montagna insieme tutti i responsi che abbiamo fatto il termine per il segretario di nuovo e il filo è solo la prestazione finale che interessa a tutti credo che i punti del campionato vargano di là tutti quanti, già state prove, tutti la campagna Grazie a tutti 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 Grazie a tutti